Musica Hello guys, RandyRan here, benvenuti in questa nuova mappa, questa nuova mappa adventure qui su minecraft Siamo in The Dropper 1.4 fatta da Big Ray Allora ci tengo a precisare che per evitare problemi che ci possono essere come in Back to Town Non so se altri youtuber attualmente la stanno facendo o l'hanno fatta Io ho semplicemente preso la mappa che mi avete chiesto di più nei commenti dell'ultimo video su Escape the NPC 2 E visto che la mappa che avete richiesto di più a Red Dropper sia 1 che 2 Allora ho scaricato la prima Allora, quindi procediamo L'unica cosa che dobbiamo fare è sopravvivere alle cadute Quindi immagino che si caschi in questa mappa La regola numero 2 è di non rompere i blocchi Perfetto L'importante è mettere video setting su Far Ci siamo già Brightness in Brits Ci siamo già E togliere le nuvole Cosa che ho già fatto Difficoltà pacifica E di, vabbè, il multiplayer è una cosa che non ci interessa Quindi andiamo avanti Allora La visione è stata aggiornata Ah, be ready to become mad Ah, quindi si, pronto a diventare pazzo Perfetto Si aspetta lo spawn Usa il letto per salvare Allora Prendiamoci il letto Mettiamo il letto terra Molto tranquillamente Mettiamo night E salviamo Non so perché Se c'è già un save Forse, probabilmente, ce lo da Maze set time set to sleep Ah, forse, probabilmente, è per chi non può utilizzare Questa La versione Con cui ti dice Che Che orario mettere Tramite quella roba lì Allora Mettiti su I blocchi d'oro E clicca un bottone A livello 1 Pazzia Tu, tu, tu Oh, yeah, la, la Mamma mia Cadiamo, cadiamo, cadiamo Oh, acqua Acqua, acqua Acqua Aia, eh, la, la Oh, guarda che figata Esce Là, sulla destra Esce Le morti Penso sia Un counter Un counter Delle morti Eh, in base a quelle che stiamo facendo, ovviamente Eh, però Eh, sono state rinominate da Invece che Death In fails Perfetto, perfetto Ci piace Fails ci gusta Piuttosto Abbastanza Allora Mi sa che dovremo trovare Dei diamanti Adesso abbiamo trovato uno Spero che ce ne siano altri Eh, e riusciremo A, spero di riuscire A prenderne tanti, tanti altri Per i punteggi Penso che debbano essermi sì qua Set spawn Quello cos'è? Checkpoint Allora, andiamo in fondo Ci andiamo ad abilitare il checkpoint Perché Ci serve Sicuramente Quindi torniamo indietro E andiamo ad aprire quella chest Curiosando su cosa ci può essere all'interno Un cazzo Perfetto Allora Seconda Livello La caduta Andiamo a vedere cos'è Oh, che cazzo Oh, porca Ma questa Ok Ah, ok Sotto c'è l'acqua Quindi mi devo tenere Alla parete Praticamente Devo tenermi alla parete E buttarmi Appena riesco in acqua Ecco Semmai non sull'albero Allora Via Va di così Godi popolo Godi Tu 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 Renna è morto La renna è morta Tan 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 Allora Facciamo così Alla Alla No Come cazzo faccio a farmi Allora di tutto Questa appa è stranissima Non ho mai giocato una mappa In cui devi sopravvivere Solamente a delle cadute Solitamente sono indovinelli Oppure adventure map In cui devi fare Determinate cose Ma Ma proprio Davvero Una mappa sulle cadute Non l'avevo mai sentita Però Mi gusta Mi sgusta Allora Di qua Si esce No Di qua c'è acqua Di qua Di qua c'è una cest Una cest Io avevo provato Una mappa simile In cui c'è In cui si cadeva Ma era una cosa in realtà Più particolare Non si cadeva proprio Era comunque tipo Sopravvivere A una specie di Era più parkour Ecco Mettiamola così Ecco Mettiamola più che era più parkour Andiamo ad aprire Il checkpoint Alla giù E poi continuiamo Tranquillamente Con il nostro Il nostro Episodio Fantastic Episodi Fantistique Oh my god Il terzo livello Adesso andiamo a vedere Come si chiama Perché non ce l'hanno detto Si chiama Livello 3 In the middle Quindi nel mezzo Oh che figata Fa anche l'effetto ottico Particolare No In the middle E beh E' stato semplice Questo in the middle Ma Ma la porta Per uscire Dov'è Io là ci vedo Solamente Una bellissima cesta Con il nostro diamantino E non vedo nessuna porta Sarà sott'acqua E' sott'acqua In effetti E' proprio sott'acqua Allora Di qua non c'è nulla Vediamo se di qua c'è qualcosina Ehm Pa 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 TP Ah perfetto Quindi possiamo teletrasportarci Perfetto Qui nulla Qui lasciamo il nostro diamante Qui andiamo ad attivare Il nostro spawn Qui cos'è Uh Pozione della rapidità Grazie bro Grazie Buona Oh Ora si Che verrà più comodo Fare le cose che dobbiamo fare Quindi Prendiamocela tutte Oh Tutututu 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 Allora livello 4 Cars Oh yeah bro Oh Ma cos'è un grattacielo Questi sono grattacieli Oh Macchina 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 Ok Quindi questa macchina E' fatta d'acqua E' blu ma è fatta d'acqua Quindi Andiamo a buttarci Nella macchina blu Che era di qua Ok Di qui Così Perfetto Per effetto Allora L'uscita Forse Forse dentro Qua dentro Vediamo Beviamo prima di tutto Questo Quindi andiamo a vedere No Andiamo a vedere di qua Qua c'è una cesta Gran culo Quindi no Di qua Andiamo a vedere In quest'altro edificio La 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 Tutututu Si entra da qui Si entrerà proprio da qui Di qua Non c'è nulla Giriamo Di qua C'è ancora meno E giriamo And Andiamo a vedere qua dietro Andiamo a vedere No Di qua non c'è niente Allora forse sarà di qua Tutututu Tutututu Tututututu Tututututu Olle Di qua Perfetto Allora Andiamo qui TP TP Perfetto Lasciamo il nostro diamante Andiamo a mettere lo spawn Andiamo a salvare Sul checkpoint Il nostro Bellissimo Il nostro bellissimo checkpoint Sul checkpoint Ah 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 Ok Ehm E andiamo Avanti Mine Quindi Miniera Oh signore Acqua 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 Olè Buono E' stato Più semplice Di quello che Prevedessi Però Ehm Però Comunque Non è proprio Stato molto Molto Carino Allora L'uscita era Dall'altro lato Io direi se troviamo La chest Ma Non penso che Mi metterò a girare Tutto il coso Per trovare la chest Con il diamante Quindi Andiamo All'uscita Ehm Come però Bella domanda Bella domanda Andiamo di qua Mettiamoci La Bellissima corsa Perfetto Andiamo di Qui Saliamo di su Scendiamo di giù E saliamo di su Alla Perfetto Andiamoci di qua E andiamo Teleport Perfetto Allora 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 Ehm Niente Ehm Niente Diamond Questa volta Andiamo a Attivare il nostro checkpoint Che diventa sempre più lontano Abbiamo Siamo morti ben otto volte Fino adesso E otto Fottutissimi fail L'abbiamo fatto Ma io riuscirò A non superare i dieci Nel prossimo livello Ne sono certo Ne sono davvero davvero certo Voi credete in me Che io credo in me Come Curtain Non so cosa sia Oh signore Oh Oh Fatto la prima botta Fatto alla fucking Prima botta Ma è enorme sto posto Però non so se vi rendete conto Di quanto è enorme È un È un bagno Eh Sì è proprio un bagno Questo è il bagno Quella è la porta Quella è la vasca Con No Quella è la doccia In questo posto Ci manca Il cesso Che non c'è Ma c'è Un cestino Un cestino Con una Cesta Vista in lontananza Perfetto Mettiamo di qui Il tra la lero Tra la la C'è persino Due episodi Mi sembra davvero corta Cerchiamo di fare Una cosa fatta carina ATP Set spawn Qui nulla Qui ci dobbiamo mettere Il nostro Diamond 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 Andiamo Corri Renna Corri Corri A level 7 Allora Qualche Qualche buco È chiuso Si chiama Qualche buco È chiuso Ah Ok Perfetto Qua è sconato La La situation Allora Io ho aperto Con la Maniglia La maniglia La leva Praticamente Rimane aperto Guardate Ecco Allora X 00 Quindi Probabilmente Quello Non va Ok Allora Ci dobbiamo buttare Di qua Aspettate Di qua No Allora Ci dobbiamo buttare Vedete Zero Quindi è libero 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 Allora Dobbiamo fare 3 a destra E 2 a sinistra 1 2 3 E siamo morti Perfetto Dobbiamo farne 3 a destra E 2 a sinistra Possiamo farcela Possiamo farcela Voi credete in me Che io credo in voi Credi in me Che io credo in te Come dissero in Gurella Gun Che bello Gurella Gun Non so se l'avete mai visto Nel caso Guardatelo Perché è un signor Manga È un signor anime E guardate l'anime Invece di leggere il manga Perché l'anime È molto più bello Ok Quindi Siamo riusciti Effettivamente In maniera Abbastanza tranquilla Farà anche questo livello Qui Mi cerco un attimo La chest Non so se c'è O meno Ma Io la cerco No niente 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 Aspettate Ah 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 Avevo visto io qualcosa Eh eh Sembrava che non l'avevo visto Vero bro E invece L'avevo visto perfetto, andiamo di qua clic in tp, mettiamo qua allora, ci siamo fermati qui al livello numero 8 che è puntini punti puntini, quindi non voglio neanche sapere che cazzo è io vado a salvare il checkpoint intanto noi ci vediamo in un prossimo video lasciate tanti big like, tanti bei commentini per farmi capire che questa mappa vi sta piacendo, spero che siete contenti visto che me l'avete richiesta in tantissimi noi ci vediamo in un prossimo video e niente, enjoy e carina sia con voi, bye bye